Saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere come catturare Pokémon che vogliamo in maniera automatica. Allora, basta installare Pokémon Go Helper, andiamo ad aprirlo, loggarci. In descrizione trovate il link per scaricarlo. Adesso ci stiamo loggando, vedete? Ci fa scegliere anche la posizione dove vogliamo andare. Qui abbiamo i Pokestop. Adesso abbiamo la borsa piena. Qui ci vengono indicati tutti i Pokémon che sono in un raggio d'azione di 500 metri. Ad esempio, possiamo ordinarli per distanza e vogliamo catturare questo qua. Vedete? È già qui. Lui ci porta in automatico dal Pokémon. Scegliamo la Pokémon che vogliamo e schiacciamo Catch. Adesso è stato catturato. Lo troveremo in Pokémon Go. Uguale con, vedete, con i Pokestop. Qua abbiamo trovato queste cose. Qui abbiamo tutti i Pokémon. Ad esempio c'è un Teddy di Ursa a 195 metri. E lui ci porta in automatico. Adesso vi ho impostato la velocità a 20 km all'ora, a 20 km all'ora. Qua c'è un Totodile. Andiamo a catturarlo. Era scappato, ma adesso siamo riusciti a catturarlo. Intanto ci sta portando alla nostra meta. Infatti ecco qua il nostro Teddy di Ursa. È scappato, lo riproviamo e catturato. Niente, questo è tutto. Se vi è stato utile questa guida e vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. Un saluto a tutti. Grazie.